Grazie, adesso la parola a Tsipras. La mancanza maggiore oggi in Europa è la mancanza di democrazia, il deficit democratico. E i cittadini sono lontani perché non credono che il loro voto e la loro voce possa aiutare realmente nel creare nuove strategie e cambiare la direzione dell'Europa di oggi. Il Parlamento europeo perde potere, i vertici sono un vertice di 28 capi di governo che decidono quello che vuole la signora Merkel alla fine. E veramente vorrei chiedere al signor Juncker che è successo a Cannes, nel vertice di Cannes, dietro le quinte dove lei e il signor Barroso avete preso parte a delle riunioni per cambiare due governi eletti in Italia e in Grecia perché venessero dei tecnocrati, dei banchieri, perché continuare con l'austerità e per quale motivo voi dovevate imporre a un paese che tipo di referendum doveva fare quando ci avete detto che rispettate la nostra Costituzione che prevede la possibilità di un referendum, la Costituzione della Grecia in questo caso.